E' stato assolto con formula per non aver commesso il leffatto Giuseppe Labbennarda, che era stato coinvolto, nell'inchiesta a basso profilo, coordinato dalla DDA di Catanzaro. Dipendente del consorzio di bonifica Ionio Crotonese, era finito agli arresti domiciliari, misura poi annullata dal Tribunale del Reesame, perturbata a libertà di scelta del contraente e corruzione con l'aggravante mafiosa. La sua posizione era stata poi stracciata dal procedimento principale per difetto di notifica a uno dei suoi difensori dell'avviso di conclusione delle indagini. Gli atti per lui erano quindi tornati in procura. Labbennarda, difesso dagli avvocati Luigi Villirilli e Andrea Felici, aveva poi scelto di farsi giudicare col rito abbreviato. Ieri, infine, la sentenza del Fabiana Giacchetti, che lo ha completamente assolto da tutte le accuse.